Cari tutti, vi riporto qua sotto un estratto del libro, in particolare dalla rivelazione da Dio. Verrà una quiete sulla terra mai conosciuta prima. Toglierò tutta la confusione dall'umanità e una gran calma raggiungerà ognuno. Sentiranno il mio spirito come mai prima d'ora e così promuoverà il desiderio d'essere sempre più vicini a me. Questa calma giungerà dalla mia anima e solleverà tutta l'umanità dall'infelicità avvicinandola ad una più grande unione col mio cuore divino d'amore. Finalmente l'umanità sarà serena e conoscerà Dio. Nella pace la gente saprà che io esisto, sempre esisterò e da quel momento tutti entreranno in un'era di conoscenza prima sconosciuta e l'amore sarà intensissimo come mai è in precedenza. Questa profondità di sentimento farà sì che tutto appaia meravigliosamente bello e non esisterà alcuna cosa o persona che sia impossibile amare. Le menti diverranno totalmente pure e possiederanno il completo controllo sui propri pensieri, i pensieri malvagi non potranno più produrre alcun frutto. Persino i sogni saranno positivi. La creatività, che evolverà da questo stato di perfezione sarà cento volte maggiore di quando la gente era costantemente occupata da pensieri negativi. In questo divino stato di mente e di cuore, l'umanità evolverà nell'amore dell'uno verso l'altro, tutti diverranno i protettori dei propri fratelli. Realizzando l'unicità di ognuno. Ogni singola anima ha una natura unica e nessuno è totalmente uguale ad un altro. Io che ho creato voi tutti, sto aspettando di sperimentare questa unicità, che ho dato alla nascita di ognuno. Io come padre e madre posso vedere la bellissima singolarità dei miei figli e come genitore di tutti ho agognato di sperimentarla in ognuno di voi nel mio universo. Voglio essere in tutti ed avervi tutti in me poiché sono vostro padre e madre e voi i miei amati figli. Il mio piano divino è essere in voi e voi in me e tutti noi divenire una famiglia universale ma, al medesimo tempo, totalmente unica nei suoi membri. Questa è la ragione per la quale considero un crimine, che un uomo e una donna cerchino di essere l'immagine di un'altra persona dato che ciascuno è stato da me creato per essere completamente e totalmente unico. Se provate ad emulare un altro individuo non sarete mai il vostro vero unico essere. Questa è la ragione per cui molti capi hanno errato cercando, di fare dei loro seguaci dei cloni, dei loro duplicati. Non essendo essi maturi in amore, possono creare infiniti problemi ai loro seguaci. Il piano divino da me creato è che l'umanità raggiunga la perfezione in amore divino, realizzi la mia esistenza divenendo uno con me in cuore, mente ed anima. Io sono un Dio di assoluta determinazione. Ricordate come Eva fu sedotta da Luciferu? Lui la ingannò in amore e in verità, così lei perse di vista il mio amore. Le persone possono facilmente venire ingannate da capi che illudendole, tramite promesse di posizioni, fomentano il loro orgoglio. L'unica posizione, che dovreste cercare in quest'ora di giudizio finale è quello di essere uno con me ed amarmi con tutto il cuore, anima e mente e vostro fratello come voi stessi. Siate prudenti per non venire ingannati da parole, che non portano vera gioia, soddisfazione e pace ai vostri spiriti. Sono un Dio vivente, non un Dio lettera morta ed è saggio rivolgervi completamente a me. Mai vi ingannerò o tradirò, perché io vi amo e mai vi abbandonerò nella vecchiaia. Leggete nella Bibbia, che io chiesi a Mosè, quando aveva ottant'anni, di condurre i figli di Israele fuori dalla schiavitù. Io non posso e mai dimenticherò qualsiasi cosa abbiate fatto per me. Dopotutto sono vostro padre e madre, sono io che vi ho creato e vi amerò eternamente. Ciò che compierò in quest'ora porterà gioia e felicità ad ognuno. Siete liberi di seguirmi e solo io vi proteggerò da ogni male, poiché sono la vostra unica protezione. Io sto guidando direttamente il mondo già da un certo tempo e non passerà molto prima che tutti riconoscano la mia presenza e di come la mia mano si stia muovendo per creare sulla terra il mio regno. Gesù era il mio amato figlio ed io lavorai duramente per portarlo nel mondo. Molti prepararono la base prima della sua venuta. Uomini e donne del passato diedero tutto, piansero e soffersero, molti di loro morirono invocandomi ed anche oggi molti invocano da me la liberazione. Voglio liberare tutta l'umanità colmando i cuori e le menti unicamente di bontà e felicità. Le persone devono mantenere stabile suddime la mente e comprendere che la loro protezione contro le forze del male dipende dalla loro dedizione a me in quest'ora. Si deve avere una forte determinazione in questo momento contro il male ed essere fermi contro le forze dell'oscurità senza indietreggiare ed ergendosi per la giustizia. Fate attenzione di non fare delle cose materiali il vostro Dio, perché, in tal caso, io sono lontano da voi. Voglio proteggere le persone da quelle forze negative, create da guadagni monetari, che fomentano posizioni elitarie, che fanno sentire superiori agli altri. Quando vi ritenete così elevati, siete inevitabilmente i più bassi, è meglio restare umili realizzando che siete il prodotto della vostra umiltà. Vi renderete conto, a volte, di sentire disturbo all'esterno e in voi stessi perché non siete stati sufficientemente umili. Gesù disse se non diverrete come fanciulli non entrerete nel Regno dei Cieli. Così restate umili, pronti a ricevere la verità, come un bimbo desideroso di imparare dai propri genitori. Le persone non conoscono molto di ciò che riguarda il mio cuore. Da una posizione umile imparerete molto prima. Date amore a tutti. L'unica voce di cui potete fidarvi è la mia, io non tollererò e mai ho tollerato il male. Questa è la ragione per cui mai ho riconosciuto ciò che Lucifero ha fatto ad Eva, se lo riconoscessi, dovrei allora dare un posto permanente al male nel mio universo, cosa che mai farò. Mai coesisterò col male poiché io sono unicamente il bene. Ascoltate la mia voce, non sono un Dio morto, ma anelo parlarvi 24 ore al giorno. La mia è la sola voce nell'universo, che ora possiede autorità, autorità di distruggere tutto ciò che non è da me, tutto il male che troppo a lungo è esistito. L'atto di Eva con Lucifero non era parte del mio piano divino e portò il male nel mio universo. È unicamente tramite un amore totale ed ubbidienza a me che tutto può essere rettificato. L'umanità, alla fine, diverrà uno con me in eterno costruendo, uniti, un nuovo cielo ed una nuova terra. Obbedendo a me sarete protetti da ogni male, voglio il meglio per tutti ed io soltanto posso offrire la resurrezione al genere umano. Eleverò l'umanità, dopo la crescita spirituale ed esperienza di vita, alla posizione di amorevoli genitori della mia creazione sia in terra, che nel mondo spirituale. Sono un Dio, che guarda alla bellezza e alla complezzenza. Osservando il mio universo appare chiaro, che tutto vi esiste in un ordine, non nel caos. È solo l'uomo disarmonico la causa di tanta distruzione e dello squilibrio ecologico. È di vitale importanza, che l'umanità divenga a mia immagine e somiglianza, così che l'universo possa funzionare come io l'avevo programmato. Allora tutte le tremende catastrofi causate dallo squilibrio dell'umanità verranno rettificate e tante persone hanno imprigionato loro stessi in angusti mondi di odio, gelosia, invidia e di natura dominante. Io non sono un tale Dio. Se si domina qualcuno alla fine lo si distrugge. Io non domino mai, ma libero, e tutti sarete a mia immagine e somiglianza. Liberi come uccelli e forse più liberi ancora, poiché inizierete, tramite i vostri pensieri d'amore, a creare tante splendide creature. Percepirete allora emozione. Sarete emozionati così come io lo sono quando creo con il cuore, che canta di felicità e colmo del desiderio di dare questa gioia a tutti. Siete l'essere più onorato. Quando vi dico che siete nella mia immagine e somiglianza, così lo diverrete, cioè perfetti come io sono perfetto. Questo è il dono più grande dato da me all'umanità intera. Voi dovete provare, nei confronti della mia creazione, il desiderio di liberarla totalmente e renderla colma di gioia. Se gli animali, anche quelli piuttosto feroci, percepiranno questo, non necessariamente uccideranno. Saranno ammansiti dall'amore dell'uomo proveniente dal mio eterno amore. Quello che sto donando all'uomo in quest'ora è ciò che ogni anima vissuta sulla Terra e nell'universo ha sempre agognato. Sono un Dio d'amore, che non cambia mai. Voi potreste mutare, ma io sono assolutamente e completamente la bontà stessa. Non muto mai, non posso né cambiare né compiere il male. Molte cose sono state dette di me che in gran parte sono profondamente errate. Credete che io possa compiere il male? Se lo pensate, non mi conoscete. Mai e poi mai sarai un Dio stolto, che vorrebbe eliminare quello che ha creato. Nulla ho fatto senza amore e nessuno può soffrire, neppure la più piccola creatura. Perfino le cose, che vi impauriscono, io amo e il mio amore è senza fine. Come sarebbe più facile per me e per l'umanità? Ma è occorso molto tempo per liberare il mondo dal male e che il genere umano aprisse a me il suo cuore. Se le persone avessero fatto questo nel passato, tutto sarebbe accaduto molto prima. Adesso, però, l'ora è giunta, la scena è preparata, il mondo è stato arato e seminato così che si possano raccogliere i frutti. Questi verranno usati in molti modi come mai prima. Le parole, che dirò tramite i miei figli saranno come il ruggito di un leone. Ho aperto la via coi mezzi di comunicazione adesso qui sulla Terra, così che la gente possa sentire e conoscere la mia verità molto più celermente di prima. Ho instillato nelle menti delle persone l'abilità tecnica perché siano in grado di compiere quello che io voglio in questo momento. Anche se la gente ora ascolta maggiormente la voce di Satana, tramite questi mezzi, che vi ho dato, il tempo verrà quando ascolterà la mia voce e ascoltandola risorgerà, poiché ho scelto uomini e donne per cambiare il mondo e renderlo positivo. Potete essere certi, che tutto diverrà bene come mai lo è stato prima d'ora, sarà nella diretta mia immagine e ricolma del mio cuore. Io sarò al centro di tutto e radunerò le mie pecore dai quattro angoli della Terra, costruirò un mondo pieno d'armonia e d'amore. Questa Terra è giaciuta nell'oscurità per migliaia di anni, però la luce della mia verità riunirà a tutti e li renderà un'unica famiglia sotto di me. Sarò il loro padre e madre e li leverò ad un amore mai trovato prima. Ricordi Doris, anni fa, quando sperimentasti un amore, che supera ogni comprensione, pace e contentezza, a Fresno, California. Allora apristi il tuo cuore a me e controllasti la tua mente nella direzione positiva e potesti amare la creazione, tutto e tutti, malgrado a volte la loro bruttezza. Quelli sono i giorni, che voglio che tu debba ricordare maggiormente, perché questo è il regno del cielo sulla Terra e il tempo in cui tutti saranno uno con me. Quell'ora non è lontana e verrò sulla Terra come un ladro nella notte. Porterò la pace e, persino coloro che fanno il male, diverranno incapaci di compierlo. Saranno fermati dal potere del bene che possiederà la loro mente e il loro spirito e tutti ne avranno meraviglia. Questo influenzerà non solo la Terra, ma anche il mondo spirituale. È arrivata l'ora in cui io conquisterò tutto.